Non prosegue bene il progetto di partecipazione dei quartieri alla vita della città, sul quale sono esplose le immancabili polemiche che si intrecciano con il tema della sicurezza partecipata, strettamente legato. L'Assemblea per l'elezione dei delegati dei quartieri Rizzi-San Domenico dovrà essere riconvocata. L'Assemblea dei consigli di quartieri partecipati dovrà essere riconvocata in quanto quella che si era iscritta come associazione all'albo del comune in realtà non aveva questi requisiti. Si trattava infatti di una società sportiva che non è prevista praticamente da regolamento. Ma la polemica principale era stata sollevata dal consigliere di opposizione Michele Zanolla che aveva lamentato l'impossibilità di partecipare a quell'Assemblea denunciando di essere stato respinto alla porta perché i posti disponibili nella sala erano solo 25. L'assessore ha così risposto all'esponente di identità civica. Ci sono state delle proteste perché era stato lanciato un messaggio sulla chat Udine Sicura. In realtà quel consiglio di quartiere era deputato esclusivamente alla elezione del coordinatore quindi erano state invitate naturalmente le associazioni. La capienza della sala era di 25 posti e quindi sono state fatte entrare le persone per un complessivo di 25 posti.